Questa mattina il Green Hub, il centro a San Pietro, gestito da Lega Ambiente, dal comune di Cavati Tirreni, ha consegnato i primi sei computer alla scuola, proprio al plesso di San Pietro, la scuola media, e in particolare quindi all'IC San Nicola, quindi alla preside trapanese. La necessità di dare questi computer in seguito a una richiesta della scuola, visto che molte famiglie non riuscivano a seguire la didattica a distanza, ma più che altro non riuscivano a lavorare in Word, in PowerPoint, a fare degli elaborati. Quindi ci siamo attivati, un grazie anche agli uffici comunali, all'amministrazione che ha dato l'ok, e abbiamo potuto consegnare questi computer alla scuola per venire incontro, innanzitutto all'inizio alla comunità di San Pietro, che ospita il Green Hub. Però adesso bisogna fare di più, c'è un vuoto di digitalizzazione, ce ne siamo accorti con questa crisi un po' in tutto il paese, quindi in questa fase di emergenza bisogna agire velocemente e quindi andare a tamponare alcune situazioni critiche di queste famiglie che non riescono a ricevere istruzione. Quindi per farlo il Green Hub si porrà come un coordinatore di questa raccolta di computer che potranno donare o prestare anche solamente le aziende, gli istituti formativi, altri centri come il nostro del territorio. Quindi li daremo alle scuole di Cava dei Tirreni che ne avranno bisogno. Stiamo ascoltando le dirigenti scolastiche di questi istituti comprensivi di Cava dei Tirreni per capire ognuno di loro quante computer ha bisogno. Già abbiamo sentito alcune, chi dice 10, chi dice 20, da consegnare direttamente a casa degli alunni affinché non solo possono seguire a distanza le lezioni, ma possono anche lavorare, scrivere, digitalizzarsi il più possibile. Quindi è un'iniziativa solidale, in un momento di solidarietà locale, globale, quanto mai necessario. Quindi inviteremo tutti nei prossimi giorni a donare o a prestare dei computer funzionanti che poi saranno consegnati alle scuole di Cava dei Tirreni.